Questo signore mi ridà la pentola, io posso dare una piccola ricompensa a mia figlia Lucina. Grazie papà, grazie. Io non ho diritto a niente, ma c'è dal pieno il tuo perdono. Il perdono? Io te lo darei, ma me ne costrò! Basta, basta, lo sapete tutti, non sono mai stato generoso, non lo sarò mai. Allora sai come va a finire questa storia? Che i luci si sposano, si sposano via il bambino e tu la pentola, non la vedi più, non la vedi più. E cosa succede qua? Chi è che si bea di stare nel mondo? Ah, però questo signore, mi deridono, giocano, urlano alle mie spalle, sulle mie disgrazie. Oggi non è giornata, ci ricordo, oggi è una giornata amara, una giornata di merda, di merda amara. No, ma guardalo, ma per favore, ma non stare sempre in crozzato, guarda, guardalo a me, ma guarda che bello, guardalo, guardalo che bello può dire, guardalo. No, 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 non mi fai pressione, appena è nato già stende la mano. Calgisiamo! Calgisanno! Calgisanno! Grazie.